Il Signore sa quanto la vita può essere pesante, sa che molte cose affaticano il cuore, e perciò dice a ciascuno, vieni! Gesù non ci leva ai pezzi della vita, ma l'angoscia del cuore. Non ci toglie l'atroce, ma la porta con noi. Oggi Egli dice a ciascuno, coraggio, non arrenderti ai pezzi della vita, non chiuderti di fronte alle paure e ai peccati, ma vieni da me.